In studio Marco Scavino. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Scicli dove si è registrata nella notte appena trascorsa un incendio doloso ai danni di un'agenzia di onoranze funebri. Ai nostri microfoni parla il titolare Giacinto Arrabito. Ore tre. Di vampa in via Saffi a Scicli un incendio. A bruciare il portone d'ingresso di un deposito di bare dell'agenzia di onoranze funebri di Giacinto Arrabito. L'uomo si precipita sul posto e tenta in ogni modo di domare le fiamme. E fortunatamente ci riesce. I danni però non mancano. Le pareti sono annerite ma soprattutto resta la rabbia, la consapevolezza che qualcuno con le fiamme ha voluto comunicare qualcosa, un messaggio, un avvertimento ad un operatore di un settore molto delicato, quello delle onoranze funebri. Le indagini dei carabinieri chiariranno la dinamica dei fatti. La tenenza dei militari dell'arma di Scicli, comunica il comandante della compagnia di Modica, Francesco Ferrante, è già al lavoro per capire cosa sia successo questa notte in via Saffi. O meglio, cosa abbia spinto il piromane a incendiare l'attività di Giacinto Arrabito, col quale abbiamo parlato questa mattina. Lo abbiamo raggiunto mentre ancora ripuliva i locali investiti dalle fiamme. Giustizia. Viene chiesta da un uomo che comunque ha fatto sapere non si scoraggia e continuerà a lavorare con onestà e forza, così come ha sempre fatto. I vicini si sono praticati a spegnerlo con l'acqua, poi sono arrivato con l'estintore. Fortunatamente i danni sono stati lievi, certamente i danni sono stati provocati più alla persona, al mio morale. Chiedo scusa anche alla cittadinanza se ho provocato qualcosa che mi associo anche alla parola del sindaco. Io mi posso definire una persona che cerco di essere corretta, una persona che cammina sempre sulla legalità. Purtroppo non tutti la pensano così, ecco perché succedono queste cose. Danni non sono grossi danni, ripeto, andiamo con qualche migliaio di euro. Però il danno più grosso è stato quello che hanno fatto a me, ai miei figli, alla mia famiglia e anche alla collettività perché hanno subito un altro brutto episodio che Sciclo non merita questo perché Sciclo non è questo. Se ognuno di noi cerchiamo di collaborare affinché possiamo aiutarci l'un l'altro, molte cose forse verrebbero evitate. Chi è stato sicuramente non è stata una persona che ha capito veramente il senso civico della vita e della realtà in cui oggi noi viviamo. Sull'episodio a mostrare solidarietà e vicinanza all'imprenditore è stato il sindaco della città Enzo Giannone che ha fatto sapere è stata sempre posta una certa attenzione da parte dell'amministrazione sui temi dell'ordine pubblico, sulle possibili infiltrazioni delinquenziali in settori sensibili dell'economia. Per questo motivo il continuo impegno sinergico con le forze dell'ordine e la stretta amministrativa su tutte le attività, onoranze funebri, ecologia, raccolta rifiuti, che possano essere oggetto di attenzioni malavitose, fanno sì che l'episodio che si è verificato non sia sottovalutato nella sua portata, anche simbolica. Scicli non è questo. Scicli è una comunità laboriosa di persone oneste e le azioni di una minoranza individuata e riconoscibile non possono compromettere la vita della comunità, si legge nella nota a firma del sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Tre ragazzi di Adrano sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo. Violenza sessuale di gruppo. Questo è il reato contestato a tre giovani posti in stato di fermo. Tutto nasce da una segnalazione fatta intorno alle 2.30 lo scorso 13 luglio presso la sala operativa del commissariato di Adrano, dove si è segnalata un'aggressione in corso lungo la via Cappuccini, propria ad Adrano. Il personale intervenuto ha trovato una coppia di finanzati visibilmente scossi. I due giovani hanno raccontato che poco prima, mentre stavano rincasando a piedi, sono stati bloccati da alcuni ragazzi a bordo di alcuni ciclomotori, i quali hanno rivolto apprezzamenti volgari a sfondo sessuale alla ragazza. I due finanzati impauriti hanno cercato di allungare il passo per sfuggire ai molestatori, solcando la parte centrale di una piazza e portandosi all'interno di un'area di servizio. Il loro tentativo è però risultato vano, in quanto sono stati bloccati dai malfattori a bordo della loro moto e da un'ulteriore autovettura con a bordo non solo conducente, il quale con una scaltra manovra ha favorito l'intento ai due malfattori, bloccando definitivamente i due finanzati. Il ragazzo a questo punto ha reagito frapponendosi tra il malfattore e la propria finanzata, poiché quest'ultima stava subendo ancora molestie, ma per tutta risposta è stato aggredito e picchiato. La reazione del ragazzo però è stata determinante in quanto il gruppetto di molestatori si è allontanato definitivamente dal luogo, forse infastidito dalle reazioni del finanzato, ma anche per la paura di una possibile segnalazione fatta dai passanti. Le immediate indagini hanno permesso di acquisire i chiari elementi di prova all'identificazione dei tre autori, che nella giornata di sabato scorso sono stati posti in fermo di polizia giudiziaria ed accompagnati presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Dopo l'interrogatorio da parte del GIP di Catania, a uno dei tre soggetti è stata applicata la misura cautelare in carcere e gli altri due la misura cautelare degli arresti domiciliari. La città di Vittoria è ancora incredula. A distanza di una settimana dalla tragedia di via 4 Aprile, ancora non ci si capacita di quanto accaduto. Ieri intanto i funerali dei due piccoli. Si trovano all'obitorio del cimitero di Vittoria le salme di Alessio e Simone d'Antonio, i due cuginetti uccisi in via 4 Aprile da un SUV a folle velocità giovedì sera. Le due salme, dopo i funerali, domenica quelli di Alessio e ieri quelli di Simone, sono state trasportate al cimitero comunale, dove saranno tumulate molto probabilmente domani. La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha concesso gratuitamente per 25 anni rinnovabili per un uguale periodo il diritto d'uso di due suoli nel cimitero comunale. Abbiamo voluto mettere a disposizione gratuitamente il suolo per la sepoltura delle due vittime nel cimitero di Vittoria, dando così un ulteriore segnale tangibile del coinvolgimento dell'amministrazione comunale alla famiglia e alla comunità intera. La procura di Ragusa attende adesso l'esito delle due autopsie sui corpicini di Alessio e Simone per avere un quadro più dettagliato sulle cause della morte dei bambini e poi si procederà di conseguenza. Intanto è già passata una settimana da quella tragica sera, quando Alessio e Simone stavano giocando seduti su un gradino di una casa vicino alla loro abitazione con un telefono cellulare in mano. Un SUV a forte velocità entra nella via e li prende in pieno falciandoli per poi finire la corsa contro un muro. Alessio muore sul colpo, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. È deceduto a seguito dell'emorragia causata dal violento distacco della gamba. Simone invece ancora è cosciente e viene soccorso con un laccio emostatico e gli bloccano l'emorragia. Anche lui aveva perso le gambe, trasferito al Guzzardi, viene operato e poi trasferito al Policlinico di Messina, dove per giorni lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Poi Alessio l'ha chiamato in cielo con lui. Domenica mattina, nel corso dei funerali di Alessio, è arrivata la notizia che Simone non ce l'ha fatta. È passata una settimana, ma la città di Vittoria non riesce a dimenticare, così come tutta la comunità iblea, che in questi giorni si è stretta attorno al dolore delle famiglie d'Antonio. I genitori di Alessio e Simone chiedono giustizia, si appellano allo Stato affinché possa dare un segnale tangibile ad una morte così atroce di due bambini innocenti. L'uomo alla guida del SUV, Rosario Greco, si trova in carcere. Deve rispondere di duplice omicidio stradale e guida in stato di ebrezza. Non gli è stato contestato l'omissione di soccorso. Difficilmente Vittoria, la provincia di Ragusa, dimenticherà la strage dell'11 luglio. Passeranno giorni, mesi ed anni, ma il ricordo di Alessio e Simone sarà sempre nei cuori della gente. Il Comune di Vittoria ha messo a disposizione del commissariato i locali di Via Gaeta, che sono sostanzialmente adesso sede dell'ufficio tecnico del giudice di pace. Il commissariato di Vittoria sarà trasferito nell'immobile di proprietà comunale di Via Gaeta. La decisione arriva dalla Commissione straordinaria del Comune di Vittoria, che ha dato parere favorevole alla concessione temporanea, incomodato d'uso gratuito alla Polizia di Stato. Trasferimento è arrivato dopo che la Guardia di Finanza ha sequestrato l'immobile nell'ambito dei sequestri dei beni della famiglia Luca di Gela. Il 50% è infatti dell'immobile di proprietà del figlio di Salvatore Luca, arrestato insieme allo zio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Attualmente i locali messi a disposizione dal Comune sono occupati dall'ufficio tecnico e dal giudice di pace. Per la triade commissariale la delibera firmata ha un altissimo valore simbolico. Il riscatto della città di Vittoria, anche e soprattutto in un momento come quello che sta vivendo, passa anche attraverso la collaborazione tra le istituzioni e la piena affermazione della legalità e della sicurezza. Abbiamo firmato con i colleghi commissari una delibera per assegnare gli spazi dell'ex tribunale di Vittoria, dove assede anche l'ufficio del giudice di pace, alla costura di Ragusa, perché venga lì trasferito il nuovo commissariato di pubblica sicurezza. Una volta firmata la delibera, chiaramente sarà trasmessa il prefetto, che poi in sinergia con il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà ai lavori di adeguamento. Ma voglio dire, intanto fare un plauso all'operazione di Polizia Giudiziaria, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che ha consentito di sequestrare 63 milioni di euro a questo gruppo criminale. Il sequestro e la confisca dei beni al crimine organizzato è l'unica via, è la via fondamentale, oltre alla prigione, per contrastare il crimine organizzato, tutte le mafie del mondo, perché debba operare il crimine, deve essere la prima finalità di ogni azione di Polizia criminale e giudiziaria. I tempi a questo punto non dipendono più da noi, i tempi dipendono neanche più dalla burocrazia, perché col prefetto anche di Ragusa e col Dipartimento i tempi burocratici li abbiamo di fatto eliminati. Quindi adesso dipende un po' dal progetto, che bisognerà, credo ce ne sia uno anche pronto, perché bisogna, il palazzo di giustizia, l'ex palazzo di giustizia di Vittoria è in buone condizioni, però ci vogliono, per instaurare un nuovo commissariato di pubblica sicurezza, ci vogliono delle misure particolari, delle misure di adeguamento particolari. La politica in primo piano, andiamo a Catania, dove Sara Donzuso ha incontrato l'assessore regionale Marco Falcone, nonché coordinatore di Forza Italia. Con lui ha discusso del futuro del partito in consiglio comunale, e come oramai è noto, Forza Italia ha ritirato il simbolo. Sara Donzuso ha chiesto adesso quale linea verrà seguita. Il Consiglio Comunale di Catania non avrà almeno per adesso il gruppo consigliare di Forza Italia. Il commissario provinciale Marco Falcone ha comunicato, infatti, con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Cassiglione, lo scioglimento del gruppo consigliare al Comune di Catania. Già da diverso tempo, infatti, Falcone aveva invitato alle dimissioni dal gruppo i consiglieri comunali che avevano assunto posizioni divergenti dal partito. Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha dunque stabilito il ritiro del simbolo, diffidando i consiglieri inoltre dall'utilizzo della denominazione del partito per qualsiasi iniziativa politica nel civico consesso. Forza Italia sta articolando una riflessione al proprio interno. Capiremo se ci sono le condizioni per ricostituire un nuovo gruppo consigliare con consiglieri comunali che si sentono vicini e partecipi al nostro Movimento Azzurro e così, soltanto quando ciò e se ciò avverrà, ricostituiremo un gruppo consigliare. Nelle more di tutto ciò è bene che Forza Italia non sia rappresentata in Consiglio e nessuno deve avere la titolarità a poter proporre iniziative in nome per conto del nostro Movimento. Se si dovesse riformare un gruppo, seguirà la linea di Miciche o la linea di Toti? Guardi, non c'è né una linea di Miciche né una linea di Toti, c'è la linea di Forza Italia. Forza Italia fa riferimento a Silvio Berlusconi, siamo all'interno del centrodestra, Forza Italia qua a Catania ha un partito coeso, ha una linea unica e in questo senso seguirà la linea che il partito indicherà. E restiamo a Catania perché continua la carenza idrica, tante le testimonianze e tanti gli appelli. Da diverse settimane sono tanti gli utenti catanesi che hanno dovuto affrontare delle criticità legate alla mancanza d'acqua. Criticità che vengono confermate anche dalla Sidra, che ci spiega attraverso il suo presidente quelle che sono state le principali problematiche. Innanzitutto quella legata a una serie di pompe di scorta risultate difittose comprate nel 2016. La cassa produttrice che è stata diffidata a giorni farà la verifica e interverrà, sottolineando che le sostituirà in garanzia. La seconda problematica è legata alla carenza di manutenzione sugli impianti degli ascensori e degli argani che di fatto non hanno permesso agli operai di scendere perché a rischio l'incolumità. Da qui la pauta è una nuova ditta che sta facendo manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel frattempo è stato ingaggiato una ditta specializzata che ha sostituito le pompe. Infine negli ultimi due mesi decine e decine di stacchi di energia, 35 in soli 40 giorni. Nonostante infatti i sistemi di protezione quando la pompa va in default o non riparte per problemi elettrici o subisce un contraccolpo, questo contribuisce alla vita e alla stessa pompa. Nel quina diffida l'Enel per i danni economici. Si sono rotte alcune pompe nuovissime e all'immagine arrecati. Il Presidente Vitale sottolinea anche come da quando si è insediato sia dall'ottobre scorso sono state comprate 18 pompe nuove e negli ultimi tre mesi 13 pompe per un valore di circa 150 mila euro. Noi abbiamo lavorato alacramente negli ultimi ultimi mesi, anche sabato, domenica, ore notturne. Abbiamo provveduto a fare le manutenzioni che non sono state fatte. Abbiamo rilevato alcuni guasti derivati da difetti di pompe su cui la casa però ci sta intervenendo in garanzia e soprattutto abbiamo anche notato e rilevato nelle nostre apparecchiature una trentina di distacchi Enel anche piuttosto lunghi che hanno determinato danni non indifferenti e difficoltà per la ripartenza degli impianti. Alcune con guasti, alcune con interventi solo elettrici, però questo ha determinato sicuramente una maggiore difficoltà degli interventi in maggiori tempi e quindi questi disagi si sono un po' allargati. Abbiamo chiesto già scusa alla cittadinanza, come ha fatto il sindaco, lo ripetiamo, ma noi stiamo facendo, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto per entro luglio, a fine luglio avremo interamente integrato i 2000 litri secondo che noi normalmente distribuiamo. È una reale polemica quella nata a Modica a seguito del dimensionamento scolastico. si è registrata infatti una nota dell'istituto Ciaceri Santa Marta dove viene denunciato come le RSU non siano d'accordo alla linea che hanno intrapreso i sindacati di concerto con l'amministrazione per andare a privare l'istituto di alcune sedi. Di contro però ne acquisirebbe altre. È polemica in città. Il nuovo anno scolastico rischia di aprirsi con più dubbi che certezze secondo le rappresentanti sindacali interni all'istituto comprensivo Ciaceri Santa Marta e il PD di Modica scontenti dell'accordo siglato tra amministrazione comunale e sindacati sul dimensionamento scolastico a Modica. In particolare preoccupano i cambiamenti dell'assetto attuale di alcuni istituti che prevedono la fusione di Piano Gesù e De Amicis, la cessione da parte del Ciaceri Santa Marta di Piano Ceci e Sant'Elena per acquisire i plessi Santa Teresa e Pirato e una nuova modulazione di Carlo Amore di Frigentini che cedendo Santa Teresa e De Amicis ottiene Sant'Elena e Piano Ceci. Le rappresentanti sindacali interni avevano espresso il proprio dissenso con una nota stampa in cui sottolineavano il mancato coinvolgimento delle stesse da parte delle sigle sindacali firmatare dell'accordo. Inoltre le RSU così come il PD di Modica ritengono queste scelte illogiche contro ogni possibile tutela per studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico dal momento che si tratta di una scelta che compromette la continuità. A tal proposito il Partito Democratico di Modica propone un dimensionamento che farebbe confluire le zone rurali della città in un'unica istituzione capace di programmare e sviluppare il territorio motivato dal fatto che frazioni e contrade condividono stesse identità e pertanto una più possibile affinità di programmazione. Sulla questione il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, contattato da noi, chiarisce la posizione dell'amministrazione, ovvero dice che la proposta non è dell'amministrazione ma il risultato di diversi tavoli tecnici a cui erano presenti i presidi degli RSU delle scuole tra cui i dirigenti scolastici. L'amministrazione si è ritrovata una proposta controfirmata da tutte le parti che hanno ritenuto giusto così, dice Abbate, che sottolinea come non si tratti di una scelta definitiva ma che deve essere vagliata. Abbate sottolinea come la scelta appunto non sia dell'amministrazione ma del mondo della scuola e prosegue dicendo che si tratta di una proposta con un piano che coinvolge 5.600 alunni. In questo caso le polemiche riguardano meno di 100 studenti. Abbate risponde ai dubbi sollevati dal PD sulla consegna dei locali di via Garibaldi dicendo che sono stati consegnati e riguardo alla paventata chiusura per ristrutturazione del plesso Ciaceri invece ha espresso la propria sorpresa in quanto dice non è assolutamente prevista. Numeri, dati e soprattutto tanti appelli soprattutto per lo screening e quanto è avvenuto oggi in conferenza stampa all'ASP di Ragusa per parlare dei dati concernenti la fotografia dei tassi demografici e di mortalità del 2018. Per quanto riguarda le nascite vi è stata una diminuizione mentre per quanto riguarda la mortalità la provincia di Ragusa si distingue per salute negli anziani. Presentate in conferenza stampa a Ragusa la statistica 2018 dell'azienda sanitaria provinciale dati che concernono i numeri della crescita demografica, della mortalità ma anche della prevenzione. Tra i principali fattori di mortalità sicuramente il tumore. I vertici dell'ASP hanno sottolineato come non venga colta da tutti l'opportunità degli screening gratuiti. Oggi c'è possibilità di sconfiggere alcuni tumori se presi in tempo. È stato sottolineato in conferenza stampa dove sono stati sviscerati i numeri statistici. La provincia di Ragusa ha 321.875 abitanti di cui 159.641 maschi e 162.234 femmine. Per quanto riguarda le nascite sono state in calo rispetto all'anno scorso superando però i 2200 bambini. Per quanto riguarda il numero di decessi è stato di 3160 di cui 1546 uomini e 1614 femmine. Per quanto riguarda la vita media della popolazione provinciale è di 77,79 anni per i maschi e 83,13 anni per le donne. Durante la conferenza stampa è stato sottolineato come sia importante la prevenzione ma anche il concetto di crescita demografica. Ho guardato gli screening e in effetti dobbiamo sensibilizzare le persone e ne approfitto di questa emettente affinché tutte le persone interessate, le donne ma anche gli uomini per quanto riguarda il carcinoma del colon, carcinoma della mammella oggi sono dei tumori che possono essere guariti e parlo veramente di guarigione al momento in cui noi facciamo la prevenzione primaria e la secondaria che sarebbe appunto l'effettuazione dello screening. Quindi sensibilizzo tutti quanti di una determinata età a effettuare lo screening. Per quanto riguarda lo screening sono date molto basse tranne il carcinoma della mammella che vorrei che si innalzasse la percentuale cioè 100 persone, soltanto 45 rispondono al carcinoma della mammella. Abbiamo date ancora molto più basse per quanto riguarda il carcinoma del colon su 100 persone, soltanto 26 uomini e donne rispondono alla chiamata dello screening. Per quanto riguarda natalità e mortalità sappiamo che la natalità va in decrescendo mentre la mortalità è in continuo aumento. L'ASP di Ragusa è sempre a fianco al cittadino, è stato ribadito durante la conferenza. Per alcuni versi è un po' sconfortante per l'adesione agli screening che tra l'altro è una procedura che salva le vite e viene fatta gratuitamente. Poi magari le persone se lamentano delle liste di attesa se vogliono fare una coloscopia mentre se andranno nello screening la coloscopia la fanno entro una settimana. Quindi sono degli accertamenti tra l'altro molto semplici che non richiedono molto tempo né diciamo grande preoccupazione da parte dell'utente che però possono essere veramente salvavita perché gli screening servono per diagnosticare quelle forme iniziali di tumore che possono essere curate, non forme che non possono essere curate. Quindi aderite agli screening. L'altro punto diciamo in cui stiamo cercando un po' di riprenderci è la copertura vaccinale per alcune malattie. Io ricordo soprattutto il morbillo che viene detto come una malattia semplice no, il morbillo è pericoloso, si muore ancora di morbillo soprattutto perché sta prendendo le persone in età adulta. Quindi vaccinatevi. Poi per il resto per quanto riguarda l'ambiente e le menti ci pensiamo noi a controllare e cercare di farvi stare in buona salute. Aperto il nuovo pronto soccorso pediatrico al Cannizzaro di Catanio E' operativo da oggi presso l'ospedale Cannizzaro di Catanio il nuovo pronto soccorso pediatrico. Dismessa la vecchia sede da oggi ci si sposti nei locali più ampi ristrutturati a modernati che offrono una migliore accoglienza ai utenti fino a 14 anni. Da oggi dunque in funzione del triaggio gli ambulatori con locali per l'osservazione breve e la sala d'attesa che si trovano alle spalle degli attuali locali e che sono stati oggetto di intervento di rifunzionalizzazione. Grazie alla ricollocazione e alla razionalizzazione di alcune attività ambulatoriali il pronto soccorso pediatrico guadagna così spazio passando agli 80 agli attuali 120 metri quadri e l'attriaggio diventa accessibile attraverso un percorso autonomo anche dall'ingresso esterno di fronte alle libase. Inoltre le postazioni e osservazioni dei piccoli pazienti passano alle attuali 4 a 6 compreso una postazione dedicata a paziente con non sospetta patologia potenzialmente trasmissibile. Tra i nuovi locali è stata realizzata anche una baby room una stanzetta in cui i pazienti più piccoli possono attendere la visita all'esame diagnostico con il conforto di cartoni animati e di giochi. I lavori, comprendenti opere edili, impiantistiche e tecnologiche progettate all'ufficio tecnico interno, sono durati pochi mesi e sono stati sostenuti al bilancio aziendale nell'ambito del piano di contrasto al sovraffollamento e al pronto soccorso in attuazione del decreto dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Per accedere al triage pediatrico genitori e accompagnatori possono utilizzare non più l'ingresso attuale attivo al pronto soccorso generale ma quello esterno più diretto che si trova di fronte alla base dell'elisoccorso segnalato da apposite indicazioni. Conferenza stampa questa mattina per illustrare i dettagli della campagna di scavi incontrata Cifali a Chiaramonte in soprintendenza a Ragusa oggi ad accogliere i giornalisti il soprintendente Giorgio Battaglia ma anche esponenti dell'Università di Pisa. A non più di 40 centimetri di profondità dal terreno che si calpesta incontrata Cifali a Chiaramonte e Gulfi c'è un cimitero arabo dell'undicesimo-dodicesimo secolo. È la sorprendente scoperta comunicata oggi nell'ambito di una conferenza stampa in soprintendenza a Ragusa. Degli arabi, a parte qualche frammento, non si è trovato mai nulla nel territorio ragusano. Adesso il sito getta le basi per nuove ed importanti scoperte. Gli scavi iniziarono circa due anni fa con il coinvolgimento di un'università americana. Adesso lo scavo è portato avanti dall'Università di Pisa. Il sito, si è scoperto dai rilievi, era frequentato dall'uomo dai tempi dell'età del rame. Durante la campagna di scavi si puntava a scoprire l'evoluzione sino al Medioevo. Poi la scoperta, una tomba e resti umani posizionati secondo i tipici riti di sepoltura musulmana. Si stima che l'intero sito, composto anche da un attiguo villaggio, possa essere attribuibile all'undicesimo-dodicesimo secolo. Nel sito di Cifali quest'anno abbiamo scoperto un cimitero con individui sepolti con il rito musulmano che sta all'interno in realtà di un abitato molto esteso, probabilmente di 8 ettari, fatto di case, di strutture probabilmente destinate alla produzione. E questo ci parla appunto di questa parte della storia della Sicilia sudorientale molto importante anche per capire le trasformazioni del Mediterraneo nel passaggio tra l'età romana e il Medioevo. Chiaramonte dunque diventa modello e si continuerà a lavorare in contrada Cifali. Verrà installata anche la videosorveglianza. Il tutto per evitare che qualcuno possa danneggiare il sito archeologico. Anche se, sottolineano dalla soprintendenza e gli studiosi, corredi, oggetti preziosi nell'area non ce ne sono, in quanto non appartengono alla cultura araba. Elementi e progetti che mostrano la sinergia produttiva tra gli enti, ha sottolineato il soprintendente della provincia di Ragusa, Giorgio Battaglia. Perché possiamo affermare con esattezza che è arabo? Perché gli arabi seppelliscono solo col sudario e con il viso rivolto alla Mecca. E quindi la prova è incomputabile. Il progetto è nato circa due anni fa con l'Università Americana. Certo, sono costi raggiungere l'Italia, eccetera. Adesso lo stiamo portando avanti con l'Università di Pisa, che sappiamo che ha una grande scuola di archeologia. E con i professori parlavamo sulla possibilità di fare una summer school che può significare tante cose. Un ritorno al territorio, anche in termini economici, chiaramente, perché significherà trovare alloggi, fare mangiare le persone, eccetera. Ma il fatto di poter identificare la provincia di Ragusa, molto ricca, che ha bisogno ancora di essere scavata, seppure è stata già scavata tanta, e progettarla in un mondo di cultura archeologica, per noi è estremamente, come dire, una cosa forte per la nostra provincia. È tutto, grazie per averci scelto. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.